Amici 22. Lite tra allievi durante festa dopo la finalissima, cosa è successo? Durante la festa dopo la finalissima di Amici 22, è scoppiata una lite tra alcuni allievi. Secondo il sito, non sono stati forniti dettagli specifici sul motivo o sugli allievi coinvolti nella lite. Tuttavia, la situazione è diventata molto tesa e ha generato un clima di conflitto e tensione. La lite tra gli allievi ha suscitato sorpresa e sconcerto tra il pubblico e i fan dello spettacolo. Amici 22 è un popolare talent show televisivo, che mette alla prova le abilità artistiche dei partecipanti. La lite durante la festa post finalissima rappresenta un'ombra sull'atmosfera festosa, e sul percorso degli allievi di Amici 22. Grazie a tutti!